Ciao bambini, ciao bambine! Sono qui per proporvi di realizzare un coniglietto. Un coniglietto tipo questo qui. Che ne dite? Proviamo! Se vi va, ci occorre un bicchiere, un po' di riso, un calzino, meglio se di un colore solo o con qualche stampa simpatica. Può essere vostro, della vostra sollerlina, del vostro fratellino, anche di mamma e bambino, verrà più grande, ma comunque verrà bene. Qualche nastrino per fare dei fiocchetti, qualche elastico proprio per realizzarlo, un pennarello nero e delle forbici, che però vi chiederò di far utilizzare a mamma e papà. Prendiamo il nostro bicchiere e il calzino che abbiamo scelto. Lo mettiamo dentro il bicchiere, allargando un pochino, così da formare una tasca. Qui dentro ci mettiamo del riso. Lo riempiamo circa a metà, fino a metà. E poi chiudiamo con un elastico. Dopo averlo preso. Leghiamo in cima e facciamo qualche giro. Con un altro elastico facciamo la stessa cosa, però un po' più sotto. Così che si viene a creare la testa e il corpo del nostro coniglietto. Ok. Guardate. Già si vede un po'. Con l'ultimo elastico prendiamo un pezzettino da quello che vogliamo sia il nostro dietro e formiamo una pallina che sarà la codina a batuffolo del nostro coniglietto. Adesso con le forbici ricordate da far utilizzare a mamma e papà tagliamo la parte di sopra del calzino quella proprio con l'elastico che non ci serve. E in mezzo cerchiamo di dare forma alle nostre orecchie. Sono sicura che voi sarete bravissimi molto più bravi di me. Adesso possiamo un pochino decorarlo. gli possiamo mettere un fiocchino o una cravattina a questo nostro coniglietto. così per esempio oppure gli possiamo mettere anche qui possiamo utilizzare della corda e farci un giro lo possiamo anche incollare volendo possiamo metterci anche del cotone al posto della codina ecco qua ecco qua e adesso con un pennarello facciamo la nostra taccina e quindi gli occhietti il nasino con qualche baffetto e il musino ecco qua questa è solo un'idea fateci vedere adesso le vostre e buon lavoro a un'idea